Grazie alla passione per il tuo lavoro hai imparato i segreti del mestiere, ora hai voglia di stupire tutti mettendoti in proprio. Ma trovare qualcuno che creda nei tuoi progetti non è semplice. Noi di UbiBanca abbiamo un finanziamento fino a 50.000 euro per dar credito all'idea che ti ronza in testa, farla diventare un'idea di successo e farti dire è successo. Questo per noi significa fare banca per bene. UbiBanca, fare banca per bene. Grazie.